Notte in bianco per molti vigili del fuoco e per i titolari di un'azienda agricola di via Sperona a Casalserugo. Dall'una 14 pompieri arrivati con 5 automezzi da Piove di Sacco, Padova e Abano hanno lavorato senza sosta allo spegnimento dell'incendio divampato in un deposito di fieno collocato all'interno della fattoria. Si trattava di ben 300 quintali di foraggio, materiale che tra spegnimento e bonifica ha impegnato i pompieri almeno fino alle 9 del mattino, ancora in corso di accertamento le cause dell'incendio. Grazie a tutti.